Mi chiamo Paolo Pianieri, sono un funzionario dell'Unione di Stare di Torino, qui in Schillab questa mattina sto tenendo un corso sulle novità correlate alla nuova norma ISO 14001. La norma che definisce lo standard per i sistemi di gestione ambientale è stata emanata a settembre di quest'anno e le imprese hanno tre anni di tempo per adeguare i propri sistemi di gestione al nuovo standard. È una norma innovativa, elementi significativi di novità e l'AUA sta reagendo in modo positivo e interattivo. Sono Marco Canonica, sono qui allo Schillab oggi per partecipare un corso sulla nuova ISO 14001 con il dottor Pianieri e la giornata sta andando avanti bene e prosegue con successo. Corso molto interessante, peccato solo mezza giornata.